Antonella Clerici cambia look prima della prova del cuoco Foto. La prova del cuoco, Antonella Clerici cambia pettinatura in vista del programma. Antonella Clerici ha deciso di cambiare Luca due settimane dall'inizio della prova del cuoco. La bionda conduttrice ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui è apparsa dal suo parrucchiere di fiducia e ha mostrato come le mani abili dell'amico le hanno tagliato gran parte della sua lucente chioma. Antonella ha infatti deciso di tagliarsi un po' i capelli, conservando comunque i suoi meravigliosi boccoli, il risultato è stupefacente e moderno, e ha entusiasmato talmente tanto la Clerici che non è riuscita a trattenere un commento a riguardo. Antonella infatti nella didascalia dell'immagine ha dichiarato che ama moltissimo questo suo biondo atomico, ma ha anche ammesso che non cambierà mai colore dei suoi capelli, attraverso un hashtag ha infatti scritto fieramente che rimarrà bionda per sempre. La chioma più corta mostrata dalla conduttrice di Rai 1 è stata pienamente approvata anche dai suoi fan, che l'hanno ricoperta di elogi nei commenti sotto lo scatto. Antonella, dopo un'estate ricca di emozioni condivise con il suo compagno, è pronta comunque a ritornare in tv, con il suo famoso programma culinario. Antonella Clerici torna in tv con la prova del cuoco, il cambio di look. La prova del cuoco tornerà infatti in onda a partire da lunedì 11 settembre, ad annunciare il ritorno della trasmissione del Mezzogiorno per eccellenza è stata Antonella Clerici stessa, la quale ha voluto mostrare con entusiasmo tutte le novità di questa nuova edizione. Lo studio infatti è interamente cambiato e proprio poche ore fa Antonella ha postato su suoi social ben due foto in cui ha voluto far vedere come i lavori all'interno dello studio 3 di Roma stiano andando avanti senza sosta. A giudicare dalle immagini sembra che lo studio sia stato ampliato, e l'intera scenografia sia stata cambiata. Per vedere il risultato però, bisognerà attendere il glorioso ritorno del programma in tv, previsto appunto per il prossimo lunedì. Per la nuova edizione, Antonella ha voluto anche cambiare look, iniziando da un drastico quanto elegante taglio di capelli, la notizia è pervenuta dal profilo Instagram della bionda conduttrice, la quale si è recata oggi dal suo parrucchiere per mettere in atto la sua decisione. Antonella Clerici è quindi pronta a ritornare al lavoro, dopo aver trascorso le vacanze estive tra l'amore del suo compagno e di sua figlia, e la paura per la malattia del suo amato cane, che però sembrerebbe aver superato.